Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andremo a vedere assieme un wallet non custodia, un'estensione per il browser, multichain, principalmente però per la chain di Icon ECX, ma che si può adattare anche ad altre chain come quella di Ethereum, Polkadot, Monbin, Binance Smart Chain e Harmony. Andiamo a vedere il suo funzionamento ovviamente dopo la siga, ma prima vi invito a supportare il mio lavoro se vi piacciono ovviamente i miei contenuti con un'iscrizione al canale e magari anche un'iscrizione anche alla nostra community Telegram, trovate il link in descrizione al video in alta destra nella home page del canale YouTube. Ma ora andiamo a vedere come funziona AnaWallet. Sulla pagina della ricerca delle estensioni per quanto riguarda Chrome e andiamo ad installare e a scaricare AnaWallet, il wallet multichain che parte come base per Icon. Esattamente come Mist Mask per la chain di Icon, lo andiamo ad installare, creiamo un nuovo portafoglio se dobbiamo partire da zero, oppure se abbiamo il seed phrase possiamo importare un portafoglio esistente. In questo caso io lo creo da nuovo e quindi clicco su Create New Account. A questo punto inseriamo una password. Nella pagina successiva, come di consueto, andiamo a copiare e incollare il nostro seed phrase. Mi raccomando, questo seed nascondetelo e salvatelo in luoghi sicuri perché vi servirà un domani per un eventuale ripristino. Non vi preoccupate come al solito se vi faccio vedere parole segrete, indirizzi eccetera eccetera perché tanto è un portafoglio per il tutorial, poi lo cancellerò non appena terminato il video. È un wallet non custodial che supporta principalmente Icon, ICX, ma come potete vedere potete selezionare altre chain. Potete installare Polkadot, Ethereum, Kusama, Boombin, Moonriver, Binance Manchain e Harmony, semplicemente cliccando sul flag. Selezionate le chain che vi interessano ma potete poi installarle anche successivamente e cliccate su Continuo. Accettate i termini e le condizioni, get started e arriviamo sul wallet non custodial. Arrivati a questa schermata cliccando su Wallet1, questo ci indica che possiamo anche creare più portafogli. Vedete che ci va a generare l'indirizzo sul quale inviare i nostri token, le nostre criptovalute e dell'indirizzo di Icon. Cliccando in alto a destra sulle tre linee possiamo andare a modificare il portafoglio oppure aggiungerni altri wallet. Inoltre possiamo cliccare su Help Support per andare a contattare il team o comunque i moderatori della community di Discord e andare a leggere i termini e le condizioni. Tornando indietro clicchiamo di nuovo su quelle tre linee e possiamo anche andare a bloccare il nostro portafoglio. Tornando nella pagina principale del wallet abbiamo i token disponibili che abbiamo inserito all'interno del nostro portafoglio con il token principale, in questo caso dell'Icon Chain. Noi dobbiamo avere in questo caso Icon per interfacciarsi con questa Chain, Icon ECX. Possiamo cliccare su Minaj token e andare a inserire i token dell'accendi riferimento sia da quelli preimpostati dove possiamo già inserire direttamente oppure andandoli ad aggiungere come facciamo con Metamask, quindi con l'address del contratto, token name, token symbol e decimali. Cliccando su aggiungi token e andremo a inserire il token all'interno del nostro portafoglio. A sinistra, a fianco a token, abbiamo la possibilità di visualizzare i nostri NFTS. Andando nell'icona più in basso abbiamo il simbolo della home perché ci fa tornare all'home page del wallet HANA. Queste freccettine ci permettono di andare a inviare token o ricevere token nel nostro portafoglio, token o NFT. Cliccando col simbolo del dollaro a seconda dell'accendi riferimento abbiamo la possibilità di andare a mettere in staking, in questo caso ad esempio Icon ECX. Per quanto riguarda lo staking è un delegate proof of stake e quindi noi andiamo a selezionare un validatore e andiamo a ricevere le nostre ricompense a seconda del validatore che andiamo a scegliere. Cliccando sul simbolino del fulmine andiamo a vedere le transazioni di riferimento alla CEN oppure a tutti i token, comunque tutte le nostre transazioni. Cliccando sull'ingranaggio andiamo nelle impostazioni del wallet. Partendo dal basso possiamo resettare il nostro portafoglio, cambiare la nostra password, andare a autorizzare le DAP, quindi se ci colleghiamo sulle applicazioni decentralizzate che vanno poi a supportare Anna Wallet, in questo caso le DAP di Icon, andiamo a dare le autorizzazioni. Menage chain, possiamo andare a selezionare le chain da aggiungere o da togliere dal nostro portafoglio. Menage token, come abbiamo visto prima, possiamo andare a inserire i token personalizzati. Tornando indietro andiamo su address book, possiamo vedere tutti i nostri contratti, i nostri address. Cliccando su manage wallet, molto importante, possiamo andare a selezionare i wallet di riferimento, andare a modificare il nome e salvare il seed phrase di ogni wallet. Mi raccomando, importantissimo come Metamask, salvatevi il seed phrase del wallet principale, ma salvatevi anche il seed phrase di tutti i sotto wallet, quindi i multi account che andate a creare. Credo che non ce ne sia di bisogno, ma ve lo ricordo comunque. A seconda della cena che utilizzate, dovete utilizzare anche il token di riferimento. Se usate la chain di Icon, dovete avere i CX per interagire con le DAP, ma soprattutto per pagare le transazioni gas fee. Se avete Ethereum, dovete avere ETH nel portafoglio. Polkadot dovete avere DOT, KUSAMA, KSM, Binance Manchain, BNB e così via. Quindi mi raccomando, quando interagite con una chain, dovete avere il token di riferimento per il pagamento delle fee. Questo per non trovarvi a dover effettuare delle transazioni e vedervi bloccate le transazioni e non potete interagire perché dovete ricaricare il wallet. Quindi fatelo preventivamente. Per velocemente vedere dove andare a reperire tutti questi dati per raggiungere un token è facilissimo. Potete andare tranquillamente su CoinMarketCap, selezionare il token di riferimento che va ad aggiungersi nella chain, in quel caso Icon, oppure se state interagendo con la Binance Manchain, dei token che supporta ovviamente la Binance Manchain, così per Ethereum e così per altre chain. Vediamo un esempio a caso, supponiamo di voler interagire con la Binance Manchain e voler inserire BNB come token, normalmente quando si inserisce una chain il token di riferimento è già preimpostato, però supponiamo di voler andare a inserire BNB. Che cosa facciamo? Clicchiamo su BNB, arriviamo a questa schermata. Si clicca su esploratori, BSC Scan e vedete che si apre questa schermata dove avete l'indirizzo del contratto e dei cimali. Quindi non vi basta fare altro che cliccare su contratto e andarlo a incollare su contract address del wallet non custodia, alla voce decimale copiate il 18 e in automatico il portafoglio vi andrà a compilare i dati mancanti perché il token verrà riconosciuto e verrà precompilato. A quel punto vi basterà cliccare su aggiungi token e il token sarà stato aggiunto alla cene di riferimento. Due semplici cose prima di chiudere il video, se vedete qua in alto a destra su wallet non connesso, cliccate su non connesso, date l'autorizzazione al wallet e vedete che adesso sarà apparso la voce connessione. Per quanto riguarda lo staking delegato, indipendentemente da ICX o altre coin, ricordatevi che delegando un token o una criptovaluta dei validatori per fare l'undelegate, bisognerà poi attendere un periodo di sblocco che a seconda dei validatori, a seconda delle coin della blockchain, va dagli 8 ai 40 giorni. Solitamente, quindi prima di mettere in stake delegato i vostri token, le vostre criptovalute, andate a vedere anche il periodo di sblocco dei vostri token. E non solo, ricordate di scegliere il validatore più consono, il validatore più attivo, quello che ha messo in staking più token, magari rispetto a tanti altri, di non andare a scegliere il validatore solo perché ha le fii più basse di tutti gli altri. Ricordatevi che andare a mettere in stake delegato token e criptovalute comporta dei rischi, i rischi che possono essere lo slashing e quindi anche una perdita importante dei token che abbiamo delegato. Se il validatore non si comporta in modo corretto ma si comporta in modo malevolo, quindi attenzione, anche nello staking delegato ci sono dei rischi. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato interessante ed utile. Vi invito come ho fatto in apertura a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e se avete voglia anche di condividere qualche mio video mi fa veramente piacere se mi aiutate a crescere. Vi auguro una buona giornata, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Ciao a tutti, a presto! Ciao a tutti!